allora intanto queste dai voglio solo un'altra vittoria un'altra vittoria mi è arrivata da mia non ci ho provato Dump Inferno questa italiana poi non è stata bella non ci ho provato non ci ho provato non ci ho provato dai 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 si si ecco una pietra addrizza ti fai qualcosa ci vogliamo addrizzare ecco un po' qui eeeh però la mia sta strinzata da metà addrizzare non lo so qui sono tutti? se non mi noto non c'è un canto guardate guardate Oh, l'ho preso bene, guardia quella. Izzitto, ma tu stai zitto, cos'è il nuovo Iphone, fai zitto, ma in effetti si avviene da complicare la nuova generazione. Ho mancato, ho mancato, ho mancato, ho mancato, l'ho fatto mancarlo, hai zitto, sei zitto. La mia sovranità è ice cream. Ok, mi sto baggando, con cosa qua? Ok, mamma mia, che fatica. Ok, qua è stato un rischio, no? 9 a 5, 9 a 7, mamma mia. Buono, dai! Direi che per oggi ci possiamo tornare qui. Speriamoci sia un po' domani, questa modalità è troppo bella. Allora, direi che... Cos'è sta cosa qua? Ma sinceramente non so cosa farvele. Non mi hanno dato altre ricompense, quindi... Sa! Vediamo un po'. La fortuna che mi ritrovo. Carjack! Ok, poi... avanti agosto. Avvio agosto. Vabbè, lo abbiamo, lo vediamo dopo. Ma sono pieno di mezzo, da quando? Eeeeee... Ah, una chorda. Grazie gentilissimi. Poi... C'è... Questo... Me lo fa utilizzare. E questo a che cazzo serve? For assembly of the core test dummy. Se io facessi fusion drive... E ne saccio un vector con... Niente. Prendessi due soli più ricorazioni qua... No. Vabbè, balza. No, ci si becca. No, ci si becca. Vabbè... No, ci si becca. No, ci si becca. No, ci si becca. No, ci si che ci sia un po' diario.